E' atteso per questa sera l'incontro tra la società e mister Ezzelino Capuano. Le parti valuteranno se proseguire o meno il rapporto fino a renessere. La società non avrebbe gradito alcune esternazioni del tecnico e la gestione dello spogliatore in questi mesi con l'avvicinarsi ai play-off. Al tempo stesso, mister Capuano vorrebbe avere delle certezze sul proprio futuro in bianco-verde. Il tecnico, nel mese di gennaio, durante la gestione targata Izzo Circelli, aveva ottenuto il prolungamento del contratto fino a giugno 2021. Stesso discorso anche per il vice, Giuseppe Padovano. Adesso però la panchina sembra essere in bilico e la società sarebbe già a lavoro per trovare eventualmente il sostituto per la prossima stagione. Intanto, sabato scorso, la proprietà ha incontrato il direttore sportivo Salvatore Di Somma, con il quale il presidente ha avuto modo di comprendere la compatibilità per il progetto sportivo 2020-2021. Il discorso, già avviato da tempo, sembra aver confermato la figura di Salvatore Di Somma, nonostante i numerosi rumors delle ultime ore, ma non ci sarebbero confermo al momento. A proposito della stagione 2020-2021, la società, nel tardo pomeriggio di ieri, ha lanciato l'hashtag rinascita, rimandando alla data del 10 luglio, giorno in cui, molto probabilmente, verranno annunciate grandi novità sul progetto sportivo della famiglia d'Agostino.